Siamo in via Cucini a Sieci, finalmente sono iniziati i lavori per la ciclopista dell'Arno, è un lavoro di cui abbiamo parlato tante volte, finalmente ce l'abbiamo fatta iniziare. Qui si vede bene sul viale di che verrà una pista a costeggiare la strada, poi si passerà costeggiandola la Spring Chimica, andando verso la zona del depuratore, poi si scenderà nell'alvio del fiume e si risalirà a Punta Sieve verso la zona della vecchia via di Rosano per ricollegarsi poi alla parte frugale. È un lavoro tanto atteso e speriamo possa anche cambiare in meglio la bifluzione di Punta Sieve, perché ci auguriamo, anzi siamo convinti, che questo sarà luogo di passeggiate e di incontro tra le persone. Questa è un'opportunità di cambiare in meglio la vita dei cittadini e delle cittadine, sia di Punta Sieve che di Sieci, ma non solo, perché finalmente questo percorso potrà consentire alle persone di ampliare le loro passeggiate innanzitutto, ma soprattutto di raggiungere a piedi e in vicinetta il capoluogo da Sieci. E quindi siamo davvero molto contenti di poter finalmente iniziare i lavori. Grazie. 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 Grazie.